Il settore delle costruzioni in Abruzzo rappresenta in termini di investimenti l'11,1% del PIL regionale ed in termini di occupazione il 24,1% degli addetti nell'industria e il 7,1% dei lavoratori operanti nell'insieme dei settori di attività economica. La pandemia è stata una vera e propria doccia fredda perché ha indebolito fortemente il lieve aumento degli investimenti in costruzioni dopo una lunga e pesantissima crisi. In atto dal 2008 che aveva ridotto i livelli produttivi di circa un terzo. Tra il 2008 ed il 2018 sono uscite dal mercato circa 4.000 imprese di costruzioni nella percentuale del 25,7%. Attualmente ne risultano attive 11.335. Nell'ultimo anno gli investimenti nel settore sono risultati in calo. Le prospettive del settore dell'edilizia sono però positive come spiega il presidente regionale del Lancio Antonio Dintino che in merito al pericolo delle infiltrazioni della criminalità organizzata invita il governo ad essere ancora più vigile. Le prospettive sono ottime diciamo non dobbiamo sbagliare l'approccio. Noi abbiamo un codice degli appalti che fa la cuna di tutte le parti tant'è vero che adesso per poter spendere le risorse dal piano di ripresa e resilienza che sono la bellezza di circa 2,6 miliardi per quanto riguarda l'Abruzzo. Noi non dobbiamo sbagliare. Quindi vengono i commissari, vengono la deregulation, vengono poteri speciali. Noi non siamo per questi poteri speciali, non siamo per i commissari ma forse è l'unica soluzione per poter far partire questi lavori. Questi lavori per l'Abruzzo cubano circa 10 mila impiegati all'anno. Nei prossimi cinque anni noi potremmo tornare a rimettere 50 mila operai nei nostri cantieri. Quindi è importante che da questa montagna non nasca il solito topolino. Voi vi rivolgete ovviamente anche la regione, al governo? Soprattutto la regione, al governo. Si è cristallizzato in questo momento proprio la difficoltà di far partire i lavori pubblici. Un lavoro pubblico di media grandezza in Italia ci vogliono circa 15 anni. Capiamo che abbiamo bisogno di leggi speciali e un fallimento della politica nazionale e anche della politica regionale.